Padre Alfio Linoce, guardiamo la persona a fondamento di ogni cosa. E' disabilità ma con le persone con disabilità. E' stato un impegno, è stata una scommessa, dobbiamo dire che è stato un ottimo successo. Nelle parole del Presidente della Fondazione Sant'Angela Merici, Padre Alfio Linoce, il senso dell'iniziativa promossa dalla Fondazione nella sua sede di Via Adamelia a Siracusa che ha coinvolto gli ospiti di tutti i centri di riabilitazione della Fondazione tra Siracusa e Canicattini Bagni. Una giornata per ribadire l'impegno a valorizzare tutte le differenze. La Fondazione Sant'Angela Merici di Siracusa ha celebrato così la giornata mondiale delle persone con disabilità indetto delle Nazioni Unite dal 1981 per aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità e i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Obiettivo della giornata sin dalla sua istituzione da parte dell'ONU ha detto Don Alfio per ribadire il concetto di dignità della persona di diritto e di benessere. L'obiettivo di questa giornata è stato un incontro creativo e generativo di scoperta nel suono, nel coinvolgimento, nel ritmo della capacità di stare insieme e partecipare come unica famiglia dall'altra all'apprendimento. La riscoperta di un'arte antica che ha coinvolto in piccoli laboratori i nostri ragazzi guardiamo alla persona a fondamento di ogni cosa, guardiamo all'altro che, come me, mi appartiene. Ha avuto luogo un laboratorio dal nome Entrizzi e Conti del maestro Claudio Romano e Rossella di Brigida. Il laboratorio ha dato vita a una narrazione con utilizzo di tamburi e a un laboratorio di intreccio per la realizzazione dei cannisci. Il Cantastorie ha narrato di usi e costume della nostra terra attraverso letture e canzoni in lingua deletale. Il coordinatore dell'iniziativa è stato Caetano Migliore, pedagogista clinico della fondazione. C'è un passaggio che mi ha particolarmente colpito quando i ragazzi hanno detto che a loro piace sognare e i limiti esistono soltanto nell'animo di chi è a corto di sogni. A noi piace sognare e immaginare un mondo inclusivo dove tutte le distanze vengono annullate. Il nostro operato cerca di migliorare la qualità di vita di questi ragazzi perché è un lavoro dove deve mettere oltre alla professionalità amore e grande passione, ingredienti importanti per il conseguimento di tanti obiettivi per i nostri ragazzi.